Stai cercando un video che dura 30 minuti per tonificare i glutei e le gambe Questo è il video che fa per te Oggi insieme andiamo a lavorare con l'elastico in questa lezione di 30 minuti Io sono Alessandro, sono il tuo trainer Oggi insieme andiamo a fare un workout per prepararci per la prova costume Io sono pronto per iniziare Tu sei pronta? 3, 2, 1, let's go! 3, 2, 1, let's go! Ok, siamo pronti per iniziare con il nostro workout Partiamo all'inizio senza l'elastico Cominciamo con uno squat per riscaldare bene le gambe e i glutei Lavoriamo con 30 secondi di lavoro Andiamo a fare due serie di riscaldamento Gambe divaricate Punte di volte verso l'esterno E via, sono partito Andiamo, 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 andiamo Spingo con i glutei indietro Forza, 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 forza Yung, andiamo, andiamo, andiamo 15 secondi, allungo, 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 vai lì, contro l'aria, addome forte, quando scendi, stop, recupera, sciogli le gambe e partiamo con la seconda serie di riscaldamento, 3, 2, 1, gambe divaricate, punte di volte verso l'esterno e via. Spingo gli altri bacino, forza, 20 secondi da adesso, via, 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 vai, 10 secondi, forza, 4, 3, 2, 1, stop, un bel respiro, ci siamo riscaldati, sciogliamo le gambe, adesso partiamo con il nostro elastico, lo mettiamo sotto le ginocchia, ok, a questa altezza, andiamo adesso a lavorare con 40 secondi di lavoro, il primo esercizio che andiamo a fare è questo, scendo il squat e apro le gambe e ritorno su, ok? 40 secondi di lavoro, 3, 2, 1, vai, sei partito, go, scendo, apro e vengo su, via, scendo, apro, vengo su, forza, scendo, apro, vengo su, go, scendo, apro e vengo su. via, andiamo, andiamo, 10 secondi da adesso, forza, vai, 7 secondi, 3, 2, 1, stop, un bel respiro, partiamo con il secondo round, adesso andiamo a fare due aperture, quindi gambe divaricate e via, scendo, apro, apro, vengo su, forza, giù, apro, apro, vengo su, forza, giù, apro, apro. l'elastico è come quando andiamo in palestra, che facevamo il macchinario, ok, per andare a tonificare l'interno, esterno coscia, forza, apro, apro, via, 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 10 secondi, ancora, vai, manda indietro bene i glutei, stop, ok, primo esercizio andata alla grande, adesso ci sdraiamo giù, andiamo giù a terra, e andiamo a fare un bonte, solamente con le gambe divaricate, l'elastico lo andiamo a mettere sopra le ginocchia, ok, pronti per partire, un bel respiro, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, e spingo, cerca di contrarre i glutei, su, spingo, glutei stretti, contratti, gambe divaricate, forza, ancora, su, via, 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 stringi i glutei, forza, 20 secondi, vai, 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 ancora, 10 secondi, e adesso rimani su con i glutei contratti, stretti, forza, 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 3, 2, 1, stop, giù, recupera, un bel respiro, adesso parti con le gambe chiuse, stringi le gambe, da qui sali su e apri, via, siamo partiti, giù i glutei, su salgo, apro più che posso, scendo, vai, su, apro, chiudo, e giù, forza, su, apro, chiudo, e giù, su, apro, chiudo, e scendo, salgo, apro più che posso, scendo, forza, 10 secondi da adesso, su, apro, chiudo, giù, forza, su, apro, chiudo, e stop, respiro, recupero, adesso vado a fare la stessa cosa, solamente che rimango con i glutei alti, e apro solamente, vado a fare semplicemente questo, le braccia se vuoi, le metti stese, ok, l'importante è che stai con i glutei alti, pronti, 3, 2, 1, un bel respiro, un bel respiro, glutei alti, e via, apro, forza, vai, 30 secondi da adesso, via, apri, apri, apri più che puoi, forza, 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 20 secondi, via, 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 apro, respiro, forza, 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 rimani su con i glutei, 10 secondi, forza, 8 secondi da adesso, 4, 3, 2, 1, stop, un bel respiro, e ritorniamo su in piedi adesso, respiriamo, recuperiamo, intanto, intanto ti invito a iscriverti al mio canale youtube, trovi il link nel profilo di instagram, nella biografia, dove trovi caricati, più di 180 video di allenamento, quindi ti aspetto anche su youtube, allora, adesso mettiamo le gambe divaricate, da qui, andiamo, andiamo a scendere i tre tempi, però le asticolo lo facciamo scendere sulle tipie, lo mettiamo all'altezza delle nostre tipie, ok, così, le gambe sono divaricate, e scendiamo con uno squat in tre tempi, 1, 2, 3, rimango e risalgo, ok, pronti, vai, 3, 2, 1, forza, 1, 2, 3, rimango, spingo e risalgo, forza, 1, 2, 3, rimango, e su, cerca di contrarre bene i glutei, 1, 2, 3, su, stringo i glutei, forza, 1, 2, 3, su, stringo i glutei, via, 1, 2, 3, su, stringo i glutei, forza ancora, 1, 2, 3, su, ok, recupera, ora, il prossimo round, lo facciamo un pochino più lento a scendere, controlliamo, ok, la discesa, andiamo piano, 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 giù, rimaniamo, e saliamo su, pronti, 3, gambe divaricate, 2, 1, vai, controlla, scendi piano, 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 giù, rimani, respira, 3, 2, 1, su, glutei contratti, respiro, controllo la respirazione, piano, 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 scendo, forza, 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 rimango, su, glutei contratti, molto importante, vai, giù, 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 scendo, respiro, su, glutei contratti, l'ultimo, 1, 2, 3, 4, 5, piano, 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 blocco, e su, ok, perfetto, fino adesso, ora, prendi il tuo elastico, lo metti sopra le ginocchia, da qui, respira, recupera, andiamo a fare un'apertura, così andiamo a pianificare anche interno, esterno, coscia, che è molto importante, è una parte critica a volte, quindi da qui, vado, apro, e scendo il squat, chiudo, apro, e scendo il squat, siamo pronti per iniziare, mettiamo il elastico sopra le ginocchia, un bel respiro, 3, 2, 1, vai, apro, scendo, controllo il movimento, apro, scendo, mandate bene i glute indietro, e spingete verso il basso, forza, go, andiamo, 20 secondi, via, 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 ancora, forza, 10 secondi, andiamo, 8 secondi, via, apro per bene, stop, rimuvero, respiro, adesso andiamo a fare la stessa cosa, ma facciamo due discese, quindi apro, scendo, spingo, scendo, spingo, chiudo, apro, scendo, spingo, scendo, spingo, pronti? un bel respiro, un bel respiro, pronti, go, 3, 2, 1, vai, apro, scendo, su, scendo, su, chiudo, apro, scendo, su, scendo, su, vai, ancora, 1, 2, 1, 2, forza, vai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ancora, ci siamo, via, 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 1, 2, 1, 2, vai, apro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, su, l'ultimo, vai, 1, 2, 1, stop, un bel respiro, rivela, ora, prossimo esercizio, andiamo in posizione di squat, quindi le gambe le mettiamo divaricate, da qui siamo giù e continuiamo ad aprire completamente, quindi devo fare un'apertura per tutto il movimento, questo è bello intenso, cerca di mettere le gambe un po' più strette del solito quando scendi squat, così va bene questa apertura, quindi scendo giù e vado, apro, apro, siamo pronti, andiamo a fare un round, un bel respiro, questo è abbastanza intenso, stringi i denti, 3, 2, 1, vai, giù, apro, apro, vai, 30 secondi, forza, andiamo, andiamo, 20 secondi, via, 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 vai, brucia un sacco, si sente veramente tanto, 10 secondi da adesso, schiena dritta, vai, 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 4, 3, 2, 1, stop, mamma mia quanto bruciava questo, respiro, sciolgo le gambe, adesso riposiamo un attimino, facciamo riposare un attimino le gambe, nel senso che le chiamo elastico, lo riprendiamo dopo, adesso partiamo, sempre per un lavoro molto importante e sempre molto sottovalutato, sono gli affondi, ok? l'affondo è importante farlo allungato, cioè cercate di fare un movimento ampio, sempre senza portare il peso in avanti, sempre stando verticali, il ginocchio non deve superare la punta del piede, quindi quando lo allungate, fateci caso, ok? questo è un ottimo esercizio per dare volume ai glutei e tonificarli, adesso andiamo a fare un round di affondi avanti, via, allungo, ritorno, allungo, per attivare il gluteo, movimento ampio, diamo volume e tonicità, 20 secondi, forza, vai, via, 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 vai, andiamo, 10 secondi, forza, allunga, 3, 2, 1, stop, un bel respiro, ora recuperiamo, partiamo con un affondo indietro, così andiamo a tonificare anche più in maniera concentratore il bicipite femurale, vai, andiamo indietro adesso, forza, go, allungo, 30 secondi, via, vai, forza, 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 vai, via, 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 molto bene, ci siamo, 10 secondi adesso, 8 secondi, 4, 3, 2, 1, stop, perfetti, ci siamo, ora, riprendiamo l'elastico e anche il cartellino ci serve, ci andiamo a mettere in posizione, giù, di volte, ok, quindi, ripeteremo giù e andiamo a fare un altro esercizio, ve lo spiego subito, allora, prendiamo il nostro esercizio, lo appoggiamo, ok, sopra le ginocchia, ok, da qui, schiena appoggiata, a terra, andiamo a fare questo, una salita, giù, poggio il gluteo, stacco un piede, una salita con un piede, giù, una salita con l'altro piede, la cosa importante è dovete semplicemente tirare su un piede e spingere con il gluteo, ok, andiamo a fare una salita centrale, una singola sinistra, una singola destra, ok, vai, facciamolo in maniera colletta, senza sbagliarlo, gambe divaricate, e via, spingo, scendo, sui piedi, spingo, scendo, cambio piede, forza, spingo, scendo, giù, tutto e due adesso, su, vai, e di nuovo, su, spingo, forza, giù i piedi, su, spingo, scendo, giù, vai, tutti e due, forza, vai su, spingo, torno, cambio, spingo, torno, e cambio, bravissimi, ripoveriamo, respiriamo, ok, adesso andiamo a fare questo esercizio, siamo pronti per partire con dei slanci laterali, ok, andiamo a mettere l'elastico all'altezza delle bibbie, poi dopo il secondo momento, al secondo round, lo andiamo a mettere sopra il ginocchio, quindi elastico, altezza delle bibbie, andiamo a fare delle aperture laterali, ok, mi metto un po' meglio indietro, così mi vede meglio, allora, la mano la mettiamo al centro, per stabilizzare il corpo, appoggiamo il gommio a terra, gambe stese, andiamo a fare dei round brevi, ma intensi, mettete un elastico nero come il mio, 3, 2, 1, petto in fuori, addominati contratti, e vai, apro, sono round brevi, ma intensi, via, aumentate la difficoltà, il elastico nero, 10 secondi, forza, 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 6 secondi, 3, 2, 1, stop, bravissimi, un bel recupero, respiro, adesso mettiamo l'elastico su, sopra il ginocchio, e si riparte, 3, 2, 1, vai, forza, adesso dovete sentirlo tutto sul gluteo, via, 10 secondi, andiamo, 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 8 secondi, vai, 3, 2, 1, stop, che brucia, vai dall'altra parte, andiamo a fare la stessa cosa, elastico sulle tibie, via, 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 dai, un bel respiro, giù, la cosa importante è mettete la mano al centro per stabilizzare la schiena, via, sono partito, apro, vai, apro, questo è un esercizio importante, dai, via, 8 secondi, 4, 3, 2, 1, stop, respiro, prendiamo l'elastico, vai, lo mettiamo su, via, 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 3, 2, 1, e vai, riparto, go, apro, fa, bravissime, 10 secondi da adesso, peggio in fuori, vai, 8 secondi, 3, 2, 1, stop, un bel respiro, ok, torniamo su, torniamo su, torniamo su, torniamo su, torniamo su, ok, ok, ci si sa di, allora, adesso cosa andiamo a fare, andiamo a fare uno squat, con l'elastico sempre, e ci andiamo ad aprire lateralmente, quindi scendo il squat, una volta che sono sceso, apro, apro e ritorno su, quindi, in modo laterale, la cosa importante è che torniamo su e ritorno su, ok, un bel respiro, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, go, scendo, apro, 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 su, respiro, recupero, di nuovo, apro, 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 su, respiro, di nuovo, giù, apro, 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 e recupero, ok, respiriamo, recuperiamo, vado a aumentare il tempo di questo esercizio, adesso metto più tempo, metto 60 secondi di lavoro, sarà più intenso, ma andiamo a tonificare bene, sia i glutei, i banditoschi, che le gambe, ma andate via gli glutei, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, go, apro, 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 su, respiro, giù, di nuovo, apro, 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 su, respiro, forza, 40 secondi, giù, vai, apro, 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 su, 30 secondi da adesso, via, giù, apro, 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 su, un bel respiro, 20 secondi, forza, vai, ancora, giù, apro, 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 10 secondi, via, 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 giù, apro, 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 stop, ok, ci siamo, recuperiamo, respiriamo come state, spavare anche tutto bene, sciogliamo le gambe, e via, giù, adesso vi faccio un altro esercizio, che andiamo a fare, eccolo qui, prendiamo il nostro tastilino, e lo mettiamo sotto i piedi, hai capito bene, sotto i piedi, da qui la cosa importante, quando lo fate, semipiegate, ok, il bacino, e mandate il sederino indietro, non mi state completamente diritti con la schiena, così, ok, andiamo a fare, da qui, una volta semipiegato, vado a aprire, prima a destra, e poi a sinistra, questo brucerà un casino sui glutei, allora, metto il tempo, ok, lavoriamo a 25 secondi, andiamo a fare due round, forza, 3, 2, 1, via, si parte, vai, apro, apro, forza, apro, apro per bene, fate un'apertura grande, per concentrare sui glutei, via, 10 secondi, vai, il gluteo indietro, 8 secondi, 3, 2, 1, e stop, respiro, 10 secondi di recupero, andiamo a fare un secondo, round, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, go, apro, apro, forza, vai, via, 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 10 secondi, via, 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 ancora, vai, forza, e 3, 2, 1, stop, rimuvero, bravissime, respiriamo, adesso, andiamo al muro, e ci andiamo a fare, dei slanci, quindi, prendiamo l'elastico, partiamo prima con uno slancio, con l'elastico sulle tibie, forza, da qui, ok, appoggiate le mani a un muro, su una porta, su una sedia, dove volete voi, andiamo a fare questo, quindi, adesso, il lavoro sarà così, slancio a destra, gambe di manicale, spingo, squat, slancio a sinistra, ok? Sono 20 secondi, slancio a destra, 20 secondi, squat, 20 secondi, slancio a sinistra, pronti? 3, 2, 1, vai, siamo partiti, go, apro, 20 secondi, forza, non molate, via, 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 10 secondi, forza, 8 secondi da adesso, 3, 2, 1, stop, ora, gambe rivalicate, mettete le mani a poggiare al muro, e andiamo G-squat, via, spingo e ritorno su, spingo e ritorno su, forza, spingo con il mani al muro e ritorno su, vai, spingo, 10 secondi, forza, go, 8 secondi da adesso, 3, 2, 1, vai, e giù, ora, slancio con la gamba sinistra, che prima avresti sopra la destra, quindi, mani a poggiare al muro, 3, 2, 1, e vai, apro, 20 secondi, dai che ci siamo, forza, 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 via, 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 10 secondi adesso, 8 secondi, 3, 2, 1, stop, ok, un bel spino, prima di chiedere la nostra lezione, eccoci qui, andiamo a fare un esercizio nuovo, prendiamo l'elastico, ok, ci mettiamo giù, con le mani poggiate, come se facciamo un plank, con le gambe chiuse, ok, da qui vado a aprire, ok, quindi ci mettiamo mani poggiate, gambe piegate, e andiamo a aprire completamente, pronti, un bel respiro, lavoriamo, 25 secondi di lavoro, 3, 2, 1, vai, vai, apri, forza, apri, i piedi magari li metti poco poco più indietro, e apri, chiudi, apri, e vai, 10 secondi, 8 secondi, 3, 2, 1, e stop, un bel respiro, recupero, andiamo con il secondo round, subito, forza, 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 3, 2, 1, vai, via, siamo avanti, vai, 20 secondi, forza, andiamo a aprire, 4, 3, 2, 1, stop, bravissimi e bravissime, vengo su, e levo l'elastico, allora, ti ringrazio che ti sei allenato oggi con me qui, su Instagram, sul mio profilo Instagram, su IGTV, ti ringrazio, metti un bel like sotto il video, e lascia un commento, se ti è piaciuta la lezione, se vuoi, di determinati video, sul mio profilo, quindi lascia un commento, e scrivi che allenamento ti piacerebbe vedere, io ti mando un abbraccio grande, noi ci vediamo, nel prossimo workout, lo sport ci salva la vita, e ce la migliora, e iscriviti anche al mio canale YouTube, ciao, alla prossima!